Un dipendente di Google è sicuro che uno dei sistemi di intelligenza artificiale sviluppato dalla società abbia preso coscienza e quindi debba avere dei diritti. Ora, quanto è plausibile la sua ipotesi? Parliamo anche delle accuse di discriminazione che hanno convinto la stessa Google a pagare un'ammenda da quasi 120 milioni di dollari e dello strano legame fra intelligenza artificiale e razzismo. Io sono Andrea D'Innocenti, oggi è il 15 giugno 2022 e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, di Italia che cambia. Sigla! Oggi parliamo di una notizia abbastanza insolita. C'è un dipendente di Google che fa l'ingegnere informatico ed è convinto che un sistema di intelligenza artificiale del colosso di Mountain View abbia preso coscienza di sé e ne parlano tanti giornali. Insomma, non è una notizia così di queste che è pubblicata sul blog di Carletto, chiunque sia Carletto, ma ne parlano appunto i principali giornali del mondo e in Italia ne parlano dal Post, la Repubblica, il Corriere della Sera. Per dire che, insomma, è una notizia che ha circolato moltissimo. Ora, cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta. L'ingegnere in questione si chiama Blake Lemoine e sembrerebbe aver fatto prestanti richieste a vari dirigenti di Google per affrontare il problema, rimediando invece una sospensione dal proprio incarico con l'accuso di aver ripelato e reso pubbliche informazioni relative proprio alle tecnologie impiegate da Google sull'intelligenza artificiale. La società ha anche detto pubblicamente, come ci si può aspettare in questi casi, che esclude categoricamente che una propria intelligenza artificiale sia diventata senziente. Quindi, come stanno le cose? Proviamo un po' a ricostruire la vicenda. Come potrete immaginare, Google è all'avanguardia nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Sono sistemi, soprattutto quelli di ultima generazione, che autoapprendono, per cui basta fornire poche e relativamente semplici, si fa per dire, indicazioni iniziali e loro sono programmati per migliorarsi costantemente e svolgere con sempre maggiore accuratezza il proprio compito. Molti di questi sistemi, fra l'altro, assumono, così, sono progettati per emulare il funzionamento del cervello umano e si chiamano, in quei casi, reti neurali artificiali. Google li usa per tantissime funzioni diverse, dalla correzione e produzione di testi, all'identificazione di foto e così via. E poi c'è un'area di ricerca, in cui Google si sta dando molto da fare, che riguarda la produzione di conversazioni in linguaggio naturale, quindi quasi indistinguibile, quello è l'obiettivo, da una conversazione fra due umani, ma invece svolta da un umano e un cosiddetto chatbox. ovvero un sistema automatico che, appunto, imita il modo di parlare delle persone ed è in grado di sostenere normali conversazioni. Il progetto più promettente e avanzato di Google, spiega il post, si chiama Language Model for Dialogue Applications, che in acronimo, diciamo come acronico, acronimo viene chiamato Lambda ed è quello che, secondo l'ingegnere Lemoine, sarebbe diventato consapevole della propria esistenza e, di conseguenza, delle implicazioni della propria presenza al mondo. Secondo Lemoine, Lambda può essere paragonato all'incirca a un bambino di 7-8 anni e, per questo motivo, sostiene l'ingegnere, dovrebbe essere... sarebbe corretto che i programmatori gli chiedano esplicitamente un permesso prima di effettuare esperimenti che lo coinvolgono. Ora, la cosa che mi colpisce forse di più in tutta questa storia è che, o perlomeno nelle parole di Lemoine, è che non sembra turbato dal fatto che un'intelligenza artificiale, a suo dire, sia diventata senziente, ma dal fatto che non le vengano riconosciuti dei diritti. È come se fosse già un passo avanti, se adesse aver scontato che questa cosa sarebbe successa. Vi leggo giusto un estratto della sua dichiarazione. Lui dice, nel corso degli ultimi sei mesi, Lambda è stato incredibilmente coerente nel comunicare ciò che vuole e ciò che ritiene siano i propri diritti come persona. La cosa che continua a non capire è perché Google continui così fermamente a negare ciò che desidera, considerato che ciò che chiede è semplice e senza costi. E Google cosa dice di tutto ciò? Ovviamente nega tutto e afferma che né il suo comitato etico indipendente che osserva gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, né gli altri ricercatori avrebbero notato in tutti questi mesi in cui è stato testato questo sistema alcun segnale che faccia pensare appunto che il programma abbia preso coscienza di sé. Anzi, ha sospeso l'ingegnere, come vi dicevo prima, dal suo incarico per aver divulgato materiale riservato dell'azienda. In particolare avrebbe pesato la scelta di Lemoine di inviare a un senatore degli Stati Uniti alcuni dei documenti sul Lambda che avrebbero dimostrato delle presunte discriminazioni, così ha affermato perlomeno l'ingegnere. Ma come stanno realmente le cose? Allora, è abbastanza difficile a dirsi. Diciamo che visti due anni e mezzo da cui arriviamo, mi sembrerebbe abbastanza logico, sensato e coerente che entro il 2023 le macchine prendano coscienza, seguite poi dall'invasione aliena e seguite probabilmente da un meteorite, più o meno a spanne. Comunque, scherzi a parte, in realtà ci sono ovviamente più di un dubbio sulla tendibilità della fonte. Considerate che Lemoine si è descritto in più occasioni come un sacerdote nell'ambito dell'intelligenza artificiale, il che potrebbe averlo portato a cercare conferma delle sue convinzioni nelle conversazioni avuti con Lambda sotto effetto del potentissimo bias di conferma. E questo potrebbe averlo così convinto, senza però avere delle prove effettive in mano del fatto che Lambda abbia preso coscienza di sé. Ora, in realtà online, trovate pubblicata su alcuni giornali tutta la conversazione o perlomeno credo che sia tutta o comunque una buona parte della conversazione avuta dall'ingegnere Lemoine con il programma informatico. Me la sono letta, me la sono letta tutta e, che dire, è senza dubbio interessante perché, non lo so, è interessante vedere come appunto il programma esprime le proprie emozioni, i propri sentimenti, come cerca le parole anche con incertezza a volte tipica degli esseri umani. Certo che è sicuramente difficilissimo stabilire se quelle affermazioni sono frutto effettivamente di un'intelligenza senziente o di un semplice algoritmo che replica tutto quello che vede. Quindi se quando Lambda dice che prova dolore o depressione e sofferenza e quando le descrive queste sensazioni le sta veramente provando quelle cose o sta solo scimmiottando la superficie di quei tipi di emozioni. Non so nemmeno bene come si potrebbe fare a stabilirle, in realtà ci sarebbe da inventare un esperimento e non sono sicuro che questa cosa sia fattibile, sia possibile perché è veramente difficile capire se dietro a delle espressioni c'è un'autoconsapevolezza oppure se non c'è. E andando un po' lino oltre non sono neanche del tutto sicuro ma prendete questa cosa con le pinze perché è più una sensazione che questo fatto sia così rilevante nel senso che se un'intelligenza è così brava a elaborare un pensiero non lo so, a volte ho il sospetto che quello che a noi sembra un confine del tipo on-off, quindi coscienza o non coscienza, sia forse qualcosa di un po' più sfumato non lo so, non so quanta differenza c'è fra il affermare di avere una coscienza e avere davvero una coscienza e quanto l'affermarlo in qualche modo non contribuisca a costruirla. Non so se mi sono spiegato, probabilmente no, cercherò magari in futuro di chiarirmi io stessa le idee perché non ce le ho chiare. Comunque, detto ciò e che sia questo il caso o meno, il fatto che però un'intelligenza artificiale possa gradualmente acquisire o gradualmente o improvvisamente acquisire coscienza di sé non è una roba così astrusa nel senso che nell'evoluzione della vita sulla Terra questa cosa a un certo punto è successa. Cioè siamo passati da piccoli organismi unicellulari guidati unicamente da quanto è scritto nel loro codice genetico a forme di vita sempre più complesse e anche qui a un certo punto gradualmente di colpo, non lo so, però è apparsa una sorta di autocoscienza che possiamo vedere magari più sfumata in forme di vita più semplici e via via più più netta in forme di vita più complesse fino ad arrivare agli esseri umani che sicuramente hanno una forma di autocoscienza molto elevata che però non è del tutto esclusiva nel senso che è stato dimostrato che altre specie hanno forme di autocoscienza. Sul perché questa cosa sia successa nessuno sembra avere una spiegazione perlomeno in ambito scientifico nel senso che non sembra portare alcun vantaggio evolutivo il fatto di avere la percezione dei propri sentimenti delle proprie sensazioni cioè il fatto di provare dolore essere consapevoli di provare dolore ad esempio non sembra portare a un particolare vantaggio evolutivo se così vogliamo vederla eppure è successo e se è successo per noi perché non può succedere anche per l'intelligenza artificiale mi chiedo e quindi insomma per concludere questa notizia io non so se Lemoana abbia ragione oppure no a sensazione direi forse più no che sì in questo caso ma il solo fatto che ne stiano parlando i giornali di tutto il mondo e che Google abbia un comitato etico per decidere anche di queste questioni e che questa cosa sia stata presa molto seriamente significa che al di là che ci abbia azzeccato noi in questo caso sono in molti a considerare questa evenienza come qualcosa di assolutamente plausibile passando invece alla seconda notizia del giorno seconda e ultima perché ci siamo molto dilungati su questa prima Google ha anche altri tipi di problemi ad esempio ha appena accettato di pagare 118 milioni di dollari riporta GreenMe per aver discriminato le dipendenti donne affidando loro incarichi e retribuzioni più basse rispetto ai corrispettivi uomini con le stesse identiche qualifiche questo accordo conclude un'azione collettiva alla corte superiore di San Francisco che è stata avviata nel 2017 quindi ormai cinque anni fa da tre ex dipendenti donne che hanno appunto affermato che Google le avrebbe inserite a livelli lavorativi inferiori rispetto alle proprie qualifiche e soprattutto rispetto appunto ai propri corrispettivi maschi con una qualifica simile comportando anche in conseguenza una retribuzione inferiore inoltre le donne hanno anche accusato Google di aver negato loro non solo appunto di averle inserite inizialmente a questo livello inferiore ma di aver negato anche loro promozioni o passaggi a team più adeguate alle loro competenze una volta appunto avviata la collaborazione e da queste tre donne iniziali in realtà adesso siamo passati a una situazione in cui ci sono circa 15.500 dipendenti donne con 236 mansioni che hanno lavorato diverse che hanno lavorato in Google California dal 14 settembre 2013 e che praticamente sono inserite in questo risarcimento in questo accordo legale e quindi parliamo di cifre decisamente importanti fra l'altro già un anno fa Google aveva accettato di dare 3,8 milioni di dollari quindi una cifra molto più bassa ma comunque non indifferente al Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti contro le accuse di discriminazione nei confronti delle donne e delle persone asiatiche sempre più o meno per lo stesso motivo quindi in quei casi si risarcivano 2.565 donne impiegate da Google in posizioni di ingegneria oltre a quasi 3.000 candidate donne e asiatiche che non erano state selezionate in quel caso per quelle posizioni e emergeva appunto questa questa correlazione tra il fatto di essere donne e in particolare asiatiche e non essere selezionate nonostante tutte le altre caratteristiche coincidessero poi con i profili selezionati vi riporto questa notizia perché oltre al fatto così eravamo in tema Google e mi interessava citare anche questa cosa ma c'è anche un'altra connessione interessante fra queste due notizie la prima e la seconda ovvero che uno dei principali dilemmi etici riguardo all'intelligenza artificiale è proprio il razzismo e la discriminazione mi spiego visto che i sistemi di deep machine learning quindi i sistemi di apprendimento automatico delle macchine apprendono mangiando milioni e milioni di informazioni prodotte dagli umani il loro tipo di apprendimento tende a riprodurre più o meno la logica umana e quindi include i nostri bias cognitivi include i nostri pregiudizi e anche tutti gli aspetti meno belli che ci contraddistinguono e questa cosa è un problema etico non indifferente perché rischiamo di creare appunto algoritmi che poi fanno cose tipo riconoscimento facciale delle persone o accusano direttamente non lo so cioè immaginiamoci in un futuro anche sistemi di giustizia che vengono affidati agli algoritmi e questa cosa potrebbe portare a una discriminazione notevole che non ci aspetteremo da una macchina ma ce la possiamo aspettare se quella macchina riproduce in maniera molto accurata come funziona il nostro cervello e niente questo è solo uno stimolo di riflessione detto ciò io direi che ci possiamo salutare qua io vi saluto vi do appuntamento domani con un uomo con un uomo e mi assegno sempre a partire dalle 8 sui canali di youtube spreaker e spotify di tale che cambiano anche sulla pagina di rassegna stampa di tale che cambia punto org e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto